Riesce a sbloccare la partita, anzi ha subito in diverse circostanze le iniziative del Trani, anche le occasioni di golle del Trani. Le ha avute a sua disposizione, ma tanta confusione sotto porta, tanta precipitazione, sicuramente figlia del nervosismo. Ora vediamo con Ripsi cosa riesce a ottenere il Nordo. Potrebbe tirare in porta. Tiro tagliato e Musacco mette in calcio d'angolo. Pericoloso il calcio di punizione di Ripsi, tagliatissimo con spinto dal vento. Musacco mette in calcio d'angolo, ora c'è Corvino dalla bandierina. Cambio. Di Pino, indietro, palla in area, ancora deviata in calcio d'angolo. Schiema del Nordo che non batte direttamente in porta. Preferisce lo scambio e l'accentramento della giocata. Ancora una volta è battuto direttamente e palla fuori. Due...